Per recuperare la password della firma remota, accedi al pannello di gestione collegandoti alla pagina selfcare.firma-remota.it. Clicca Recupero password. Nella schermata che segue inserisci il codice utente presente nella Scratch Card o nell'email ricevuta al momento dell'acquisto del servizio e il nome utente della firma remota. Abilita la spunta su Non sono un robot, poi clicca Prosegui. Nella schermata visualizzata scegli se ricevere un codice OTP al numero di cellulare associato alla firma remota o generare il codice con il dispositivo in tuo possesso. Prosegui. Inserisci il codice OTP ricevuto o generato e clicca Prosegui. Riceverai una e-mail contenente le istruzioni per creare una nuova password. Clicca sul link presente nella e-mail. Il link ha una validità di 15 minuti, superati i quali sarà necessario ripetere la procedura dall'inizio. Inserisci su entrambi i campi la nuova password rispettando i requisiti richiesti dal sistema. Per sapere quali sono, clicca sull'icona indicata. Infine, prosegui per concludere l'operazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.